ciao se ancora non mi conosci sono alberto macerata fonico presso lo studio di play se invece mi conosci sai che con i miei video seguo un rigoroso ordine a mozzo praticamente saltellando un po di qua un po di là in base alle considerazioni che mi viene in mente di fare oppure alle considerazioni che tu con i tuoi commenti mi hai proposto portandomi a trattare un certo tipo di argomento al quale magari non avevo pensato quindi oggi mi piacerebbe fare un salto indietro e tornare a parlare di cose molto più base ma che non vuol dire cose banali o scontate perché mi sono reso conto proprio facendo i video su questo canale e quindi grazie a te che segui questo canale e dico sul serio veramente un ringraziamento che voglio fare a coloro i quali seguono questo canale perché mi hanno portato a studiare ad approfondire a migliorarmi nel mio lavoro e quindi mi viene da pensare che è bello condividere anche questa sensazione il fatto di provare a migliorarsi andando ad analizzare un po meglio quelle cose che ci sono sembrate in passato scontate adesso per esempio mi piacerebbe mettere a fuoco alcuni punti direi cinque punti insomma potrebbero essere di più di meno ci ho pensato superficialmente forse ma mi aiuterai tu scrivendo nei commenti quello che pensi di questo aspetto cinque punti che riguardano il mix quelli che possono essere cinque errori che io e te possiamo fare quando affrontiamo un mix errori molto banali molto superficiali ma il fatto di pensarci di rifletterci ci porterà a evitare questi piccoli errori banali e poterci concentrare su fare errori molto più grossi che insomma danno più soddisfazione ecco intanto se ti piace questo genere di contenuti come al solito ti invito a iscriverti al canale ti invito a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ti invito a mettere un like che fa molto piacere sempre quello di cui vorrei parlare oggi sono questi cinque punti super banali ma che andrebbero sempre molto focalizzati tutto quello che dico in questo ambito riguarda comunque sempre la contestualizzazione di quello che stiamo facendo naturalmente se noi stiamo facendo un prodotto di indie rock probabilmente avrà dei canoni diversi da quelli che ha un prodotto di pop o un prodotto di jazz che magari un prodotto che non è nemmeno cantato quindi ragioniamo su quelli che possono essere i criteri di mix alla base di quello che facciamo normalmente io prenderei come contesto il contesto della canzone la canzone pop la canzone rock se vuoi che è quello più diffuso sul quale normalmente ci concentriamo di più anche se poi questi concetti varranno comunque allora quali sono gli errori più comuni che mi capita di vedere di ascoltare nei mix di colleghi ma che riscontro anche nei miei vecchi mix perché comunque è capitato a tutti noi di avere un approccio iniziale non sistematico senza un metodo preciso quindi partiamo con il primo problema che si riscontra spesso nei mix il volume della voce il volume della voce è molto importante la canzone è una canzone quindi c'è un testo c'è un'interpretazione se la canzone è stata cantata bene l'interpretazione andrà a coincidere con i contenuti del testo ed è molto importante che questo aspetto venga fuori bene quindi il lavoro che dovremmo fare è quello di mettere questa voce in prima evidenza addirittura gli americani lo chiamano money channel il canale della voce il canale dei soldi cioè quello attraverso il quale se tu lo gestisci bene sarai il fonico che viene chiamato il fonico che viene pagato questo non è non è un caso e quindi mi capita spesso invece per una questione di mix fatti dalla band mix fatti con un certo amore per l'arrangiamento dove la voce non dico che venga messa in un secondo piano ma non assume immediatamente per l'ascoltatore distratto l'ascoltatore che ascolta in macchina mentre guida mentre fa altro non assume il ruolo primario e quindi si va a perdere un pochino all'interno dell'arrangiamento vada bene non sto dicendo che non si senta la voce ma non è immediatamente al comando del mix su una canzone questo può essere un problema e qui vengo al punto numero 2 il riverbero della voce il riverbero della voce è uno dei trattamenti che noi applichiamo alla voce in un mix che però è responsabile prima di tutti gli altri della contestualizzazione della voce nell'ambito di quel mix hai voluto tenere la voce all'interno del mix quindi hai voluto tenerla bassa per dare un certo valore all'arrangiamento per fare in modo che il pezzo spingesse che avesse una buona pulsazione ritmica benissimo la scelta è quella però dovrai fare in modo che il riverbero giustifichi quella posizione nel mix questo non vuol dire che debba esserci un riverbero enorme ma semplicemente che il riverbero il quale rappresenta l'ambiente dentro cui la voce si sviluppa nel brano deve giustificare esattamente quella posizione quella profondità nella scena sonora che tu hai attribuito alla voce a me spesso capita di sentire dei mix dove la voce a un riverbero che non è contestualizzato che non giustifica la posizione della voce nel mix ma che semplicemente è un colore che magari è piaciuto a chi ha mixato e di conseguenza ha detto beh visto che mi piace ne metto ancora un pochino anzi ne metto ancora un casino e quindi ti trovi con un riverbero enorme magari la voce con un volume abbastanza alto e dici ok qua non funziona sento un annegamento di voce dentro questo riverbero molto importante quindi che il riverbero sia corretto in base alla collocazione che tu vuoi dare a livello di profondità puoi decidere di tenerla più fuori più avanti più evidente e allora è chiaro che il riverbero potrà essere un riverbero anche ampio ma dovrà essere dosato con quella voce con una certa parsimonia in modo tale da giustificare il fatto che la voce sia avanti questo perché una voce può anche svilupparsi all'interno di un ambiente molto grande ma quando è vicina tu sentirai quell'ambiente in un secondo piano rispetto alla voce quindi fare bene attenzione al dosaggio del riverbero sulla voce in modo tale che la posizione risulti naturale una cosa che per me ha sempre funzionato bene per risolvere questo è togliere gli occhi dal sequencer non guardare la mia barra di scorrimento le tracce con la voce che arriva le automazioni scritte togliermi da quel mondo chiudere gli occhi e fare un piccolo ascolto del pezzo con gli occhi chiuse nella mia posizione ottimale e questo mi dice guarda ok la voce è collocata al posto giusto l'hai tenuta con un volume alto e il riverbero giustifica questo volume che tu hai dato alla voce piuttosto che l'hai tenuta dentro ma il riverbero giustifica quello che hai fatto piuttosto che sento una tensione anche a livello istintivo molto importante ascoltare sempre il tuo istinto se hai la sensazione che una certa cosa non funzioni devi subito cercare che cos'è quella cosa capirla e risolverla punto 3 la bassa frequenza ne abbiamo parlato già in diversi video la bassa frequenza è una cosa che quando è ben sviluppata rende tutto gradevole o che bei bassi o come spinge o che suono grosso eccetera eccetera però non funziona esattamente così la bassa frequenza va tenuta bene sotto controllo non deve essere esagerata altrimenti in mastering ci troveremo sempre a togliere delle basse frequenze in più ma questo vuol dire alterare gli equilibri di mix un consiglio che posso darti un suggerimento una cosa che io faccio abitualmente dal punto di vista della gestione delle basse usa sia in mix che in mastering sempre una reference track sul tuo sequencer metti una reference che abbia un senso rispetto a quello che stai facendo perché poi troverai cose molto diverse tra loro tutte ben funzionanti ne scegli una che secondo te può essere un buon match tra il suono che cerchi tu è un suono comunque professionale comunque considerato in ordine e ogni tanto switchi su questa traccia cercando di tenerla al volume a cui stai lavorando in modo tale che quando passi sul pezzo di che ne so di Irene grandi e poi switchi sul tuo abbiano più o meno lo stesso volume e senti focalizzandoti bene sulla bassa frequenza qual è l'apporto in bassa frequenza di quel master rispetto al mix che stai facendo tu in modo tale da avere una bassa frequenza corretta poi abbiamo approfondito in altri video la bassa frequenza dal punto di vista dell'impulsività nel tempo ma non è questo lo scopo di questo video l'importante è equilibrare la presenza di tutto ciò che è la bassa frequenza all'interno del mix il quarto punto al quale possiamo allacciarci partendo dalla bassa frequenza ma poi andando ad analizzare un po tutto il resto del mix è la contestualizzazione dei singoli suoni all'interno del mix non parliamo ancora di ruolo ci arriveremo parlo semplicemente di contestualizzazione sonora spesso ci capita e vedo che certi mix soffrono proprio di questo aspetto mi rendo conto che è stato fatto questo errore mixando che porta a un certo risultato l'ascolto dei suoni in solo il solo è comodissimo anzi non potremmo lavorare senza il solo però dire facciamo il suono della chitarra facciamo il suono della batteria o peggio mixiamo la chitarra mixiamo la batteria mixiamo la voce ma ragazzi cosa vuol dire mixare vuol dire mettere insieme cose quindi non puoi mixare una cosa e quindi per me non puoi neanche pensare di mettere in solo la voce e fare un lavoro per ottenere un buon timbro della voce io penso che se tu hai usato un buon microfono per registrare con un convertitore decente di una scheda audio decente cioè tutte quelle che ci sono in commercio la voce da sola funzionerà già non credo che tu abbia bisogno di fare compressioni equalizzazioni saturazioni eccetera non funzionerà magari in un contesto una chitarra a me capita spesso di sentire anche dal vivo il suono della chitarra sentiamo questa chitarra bellissimo da solo piena di bassi piena di alte frequenze che sono gradevoli all'orecchio l'orecchio vorrebbe sempre sentire uno spettro completo quindi apriamo i bassi su questa chitarra elettrica apriamo le alte frequenze su questa chitarra elettrica magari perché no scaviamo la anche un pochino in media poi la mettiamo nel mix e non la sentiamo magari quella parte alta che di fatto ci piaceva sentendo la chitarra da sola nel mix invece va a rendere fastidiosa l'area intorno ai 4000 5000 hertz e questo può essere un problema inoltre per sentire quella chitarra bellissima in solo dovremmo dare un sacco di volume andrà ingolfare tutta la media e la bassa frequenza e succede un casino succede proprio un casino per cui i suoni in solo andrebbero ascoltati più che altro quando noi andiamo a cercare una cosa specifica per esempio mi rendo conto che quella chitarra ha una risonanza in medio bassa devo capire dove si trova cerco di riconoscere quella medio bassa nel contesto poi ascolto la chitarra in solo cerco il problema con un equalizzatore lo vado a risolvere con un piccolo taglio laddove necessario quindi l'idea dell'ascolto in solo dei suoni mixiamo la batteria abbiamo fatto un bel suono di batteria siamo soddisfatti ce la dimentichiamo ci buttiamo sul basso e tutto il resto e alla fine il mix suonerà tipicamente con un esubero di medio alte un esubero di medio basso e super ingolfate e una gamma media che funziona e non funziona perché intanto c'è l'effetto mascheramento di ciò che proviene dal basso e poi c'è un impoverimento della maggior parte dei suoni che sono stati tutti più o meno trattati in quel modo ecco quindi evitare l'ascolto in solo cercare di fare un mix ricordandoci alcune cose chi ha scritto le librerie di suoni ha fatto dei suoni che funzionano già abbastanza bene per il contesto al quale sono destinati chi ha progettato dei microfoni tipo le sm58 sure tipo l'u87 neumann tipo il samson da 60 euro che trovi su amazon che non è malaccio alla fine non è malaccio sono tutte persone ingegneri gente che ha studiato per fare quello che ha creato un progetto che si è sbattuta per fare un qualche cosa che funzionasse quindi partiamo come già suggerito in altre situazioni da un insieme nel quale non tocchiamo nulla vediamo dove i suoni vanno in competizione tra di loro e andiamo a tagliare prevalentemente magari anche a enfatizzare quelle frequenze sui vari suoni che li riportano nel contesto giusto e qui veniamo al punto numero 5 e cioè il ruolo dei timbri l'errore numero 5 della mia scaletta improvvisata di oggi è il fatto che bisognerebbe dare un ruolo a tutti gli elementi del mix in modo tale che questi elementi vengano enfatizzati in quel ruolo valorizzati in quel ruolo e vengano penalizzati laddove sono fuori dal loro ruolo per esempio tu potresti ragionare dal punto di vista dell'arrangiamento musicale la batteria non è difficile sarà un elemento ritmico il basso è lì a metà un elemento ritmico è armonico ma potresti contestualizzarlo nella parte ritmica considerato che il maggior rapporto del basso sarà in bassa frequenza e media frequenza senza andare a disturbare quelle parti che invece sono più l'area dell'armonia laddove ci sono gli accordi in media frequenza dove dovremo fare posto alle parti armoniche e alle parti melodiche che sono due elementi differenti dovremmo cercare di distinguerli attraverso i riverberi attraverso la collocazione nel mix attraverso la profondità ricordandoci che magari se un elemento melodico coesiste con un altro elemento melodico avremo sempre un ruolo primario e un ruolo secondario quindi il ruolo primario sarà la nostra melodia l'altro elemento melodico sarà probabilmente un'armonia che cercheremo di far coesistere con un volume un po' minore e magari rendendola leggermente più lontana con un riverbero in modo che l'orecchio dell'ascoltatore sia immediatamente informato su chi è che comanda in quel momento così come se questi elementi melodici hanno un certo apporto relativamente importante in medio bassa e vanno a competere con delle chitarre elettriche per esempio o col basso o vanno a mascherare un po' la batteria a questo punto ha sicuramente senso tagliare un po' di bassa un po' di medio bassa magari con un filtro poco invasivo tipo uno shelving su questi suoni in modo da dargli ancora di più una caratterizzazione una contestualizzazione un ruolo a livello di arrangiamento e di conseguenza a livello di mix poi ci saranno dei colori li troveremo in parte sulla batteria li troveremo su alcuni sintetizzatori li troveremo su delle percussioni dei colori che vanno a giocare in alta frequenza sono magari elementi ritmici sono magari elementi semplicemente che vanno ad aggiungere delle alte frequenze che rendano gradevole il nostro mix in questo modo suddividiamo lo spazio a disposizione in modo concettuale attribuendo dei ruoli precisi attraverso l'inserimento nel mix con i nostri equalizzatori con i nostri compressori con i nostri riverberi di questi elementi in maniera ragionata in maniera logica così questo effetto che noi abbiamo nella gestione dei suoni singoli di completezza viene invece fatto da una bella collaborazione dei suoni ci sarà chi collabora in bassa frequenza ci sarà chi collabora a livello impulsivo ci sarà chi collabora in media frequenza medio bassa magari chi collabora in medio alta per creare un insieme che finalmente soddisfi il nostro orecchio con tutte le frequenze posizionate nel modo giusto senza esagerazione in alta il suono chiaro ci piace ma non esageriamo senza esagerazione in bassa frequenza secondo me questi sono un po gli errori da evitare per arrivare a un buon mix poi chiaramente vengono fuori tutti gli altri concetti che abbiamo già discusso e quelli che discuteremo in altri video in futuro ma la cosa importante è partire da delle basi semplici magari banali e scontate come quelle che abbiamo trattato oggi ma senza perderle di vista senza dire sì vabbè dai quello lo so ma che cazzo scusa a volte mi scappano dei colori un po cosa me ne frega cioè quello è ovvio faccio mix da cinque anni da dieci anni non è che andrò a badare a queste stupidaggini e invece a volte caschiamo ancora in questi piccoli problemi di mix e come si vede insomma dai file che arrivano da masterizzare alcune volte bene per questo video è tutto spero di averti dato un qualche cosa di utile e ci vediamo senz'altro la prossima volta play with us a Grazie a tutti.